Proteste in Kyrgyzstan all'indomani delle elezioni parlamentari che hanno visto la netta affermazione dei due principali partiti filogovernativi. Per i sostenitori dell'opposizione il voto sarebbe stato macchiato da irregolarità e presunte compravendite di voti. Almeno 3.000 persone sono scese in strada per manifestare nella capitale Bishkek. I partiti che non hanno tenuto seggio hanno annunciato una protesta ad oltranza. Penso sia molto probabile che anche qui si sviluppi uno scenario simile a quello bielorusso. Con il livello di povertà del paese la corruzione degli elettori ha giocato un ruolo importante. Alcuni partiti hanno lavorato con largo anticipo versando enormi quantità di denaro. Denaro che ha avuto un ruolo molto importante per assicurarsi il voto delle minoranze e delle generazioni più anziane. L'affluenza, fatto sapere la commissione elettorale, si è attestata intorno al 55%, stando ai risultati preliminari, solo 4 dei 16 partiti in lista avrebbero superato la soglia del 7% necessaria per ottenere seggi in Parlamento. Le due principali forze politiche del paese avrebbero ottenuto da sole quasi il 50% delle preferenze.